benvenuti in questo video sono il giorno 95 e questa volta siamo in compagnia di roberto e nicolas e spero che il video vi possa piacere spero che anche se sono in compagnia magari vi può divertire il video e magari loro mi possono aiutare a migliorare nel gioco quindi magari può essere importante come cosa quindi adesso loro mi daranno una mano e non so quanto giocheremo in questa registrazione però cercherò di fare più minuti possibili soprattutto riusciamo a recuperare un'armatura per te eh io di armatura sono messo un po' basso no ma questa ti può servire anche per più avanti capito eh lo so può servirmi tutto però non è che sono abbastanza abile in questo gioco sì sì allora aspetta che cambio arma perché sennò qua ci cucilano qua ci sono i super mutanti eh quindi sono quelli più cattivi ahia ma oh e si esplosa la macchina guarda che qua se vuoi ci sono delle munizioni ok attenzione 35 questo qua ah vabbè eh sì gamba destra in cuoio si è rotta va bene eh è un evento io che non era tanto forte eh eh allora prima o poi dovrà capitare vabbè comunque aia che bomba c'è uno qua fuori vogliono le maniere forti dove stai livello 50 questi qua sono dei bestioni guarda che bella arma che ho trovato eccola ho trovato una bella arma e niente non c'è più nessuno e per forza l'ho già ammazzato io l'ho ammazzato io ah va bene cacchio all'ingresso sono persi ho trovato dei tappi bravo adesso ti faccio allora vai sul cadavere facciamo nooo livello 40 oddio aiuto eh mi beccano dove sei? dove siete entrati voi? ecco io sono un po' ferito ma sono ancora vivo se tu mi vieni vicino poi ti guarisco io lì ti apriamo anche le porte che tu non puoi aprire addirittura infatti io sono di livello 0 abilità eh fagli prendi un po' di munizione fai vai prenda prenda c'è ragione anche te anche qua c'è una bella arma se ti interessa johnny quale arma? se tu schiacci il cerchio vedrai che ti si illumina la luce ce lo volessi avere la luce ah puoi vedere la spagna o non la prendo munizione vedi qua? qua c'è un'arma se devo scappare guarda ah si come faccio a prenderla? dai vicino da qua posso c'è un fucile d'assalto la devo prendere? si prendi qua se ti può servire che è il tuo livello puoi usarlo basta così è un'arma migliore no? io dicero tu usa la pistola anche le munizioni le ho preso le munizioni dove sono le munizioni? da qua no sacca da viaggio guarda dentro è già presa hai già preso? si è già preso tanto ce ne sono altre tranquillo allora dov'è che l'ho vista l'armatura là sopra allora qua c'è la scala dove? vedo la scala come fai a non vedere le scale sono dappertutto si no ma non volevo quella di scala che vede lui è quella che vedo io eccola qua ma non lo guarda no perché mi interessa andare dove voglio io per poi arrivare a lui capito? ecco qua qua è un'altra stacca ok porta aperta raggio pistola lanciarazzi vabbè devo vederla dovrebbe essere là qualcuno l'ha presa sono dietro dal fetto sono dietro dal fetto e dietro a Nicholas dove devi andare qua ho trovato la cosa del nucleo di fusione mi ha vuoto eh ma infatti era sopra allora per per far funzionare l'armatura che vedi adesso a me e la cosa qua sopra sarebbero i nucleo di fusione si ah si? abbastanza cioè non rari però si ma io qua se tu vedi qua c'è un c'è un macchinario dove li produci se ti può interessare è che mi son perso ah eeeh vabbè faici la scala segui la cartella la cosa dove sono io riesce la freccia cacchio eh qualcuno se l'ha ingroppata qualcuno si è fregata l'armatura ah perfetto ah sappiamo io so dove possiamo portarla no aspetta perché qua c'è l'armatura io lo so che c'è che ho visto prima ma ci ha pensato anche adesso secondo me forse qua dici dici quella lì sopra si ma ho perso la scala vabbè una vale l'altra tanto ci sono le salite ah l'ho trovata l'hai trovata si prima cosa per lo stesso punto di prima però qua c'è la scala l'altra il punto soccorso quindi eh fagli aprire anche lui che lì trova le gli stimpati che gli possono servire già oh io non so quanto mi dura ancora lo spazio libero di cosa di quella cosa che mi avete fatto bene ah no vabbè ma tanto adesso devo trovare l'armatura cacchio perchè se no come fai la finestra là ho trovato un banco da lavoro quindi potessi riciclare quello che c'hai di materiale ah è vero la finestra là ma devo prendere si si sono buoni pesano neanche tanto allora io dai come faccio a portarti via lo speedino di guana anche quello lì è roba leggera c'è una porta ancora chiusa la vedi la sopra ahhh ma che è la porta? è sopra di me se mi vedi sopra di te sopra di te? e allora facciamo la scala ah è vero non è aperta eh e mi sa che è lì se riesco a arrivarci che è giusto per aggrapparsi no non puoi fare per cui eh per cui non riesco a farlo infatti non si riesce a fare per cui allora ho tentato ma non è andata bene neanche noi quindi quindi è la specie di labirinto dobbiamo cercare di te da venire su qua vabbè andiamo su no c'è la scala che portaria e che non la trovo io bello ma dov'è era qua l'armatura ce la sono fregata mi sai è arrivato qualcuno ha fatto il furbetto si perchè l'hanno fregata prima che gli scade il peso purtroppo mi hanno fregato qualche altro giocatore è passato prima di noi ah ha fatto il furbetto bene succede perchè l'abbiamo preso anche noi ahhh c'è ancora qualcuno vivo qui sopra c'è uno non è più vivo ok allora vai subito perchè se no lui non ce la può più non ce la fa più fra un po' il peso andiamo 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 è presto qua l'ho perso ok trovato vai seguimi ok allora tastiera r1 eeeh al fetto si perfetto viaggio rapido via così risparmi anche i tappi eeeh dovreste adesso queste qui dovrebbe saltar fuori anche sulla mappa te no john? cosa? e sulla mappa il boss dove siamo adesso qua ce n'è una c'è? c'è? qualche pezzo d'armatura si ooooh almeno lo facciamo contento aspetta c'è anche il nucleo di fusione non prenderlo non glielo prendo c'è un po' di pezzi di armatura che non può portarli e ma magari li può prendere lui scusa magari no? li lascio su a loro li lascio su fai calmo io l'ho messi dentro in teoria non è vero come fa' si io l'ho messi dentro vieni johnny dove? dentro la miniera? si guardami poi giri qui e c'è l'armatura e qua c'è l'armatura questa? si si poi dopo la puoi comporre tu adesso sicuro non ti fa andare dentro devi togliere i pezzi ah devo raccogliere i pezzi? si eh però non c'è la felice non ti serve a niente adesso mi puoi mettere nella tua cassa di scorte che qua ce n'è una qua mi sembra no? eeeh dovrebbe avere una cassa di scorte qua eh accesso ordine dei misteri dove lei dove vuoi ascoltarlo? si si se vuoi si come faccio ad ascoltarlo? non lo so mi appare qua nei nuovi eh ma entra nell'armatura prima ci abbiamo lasciato anche il nucleo io me lo stai già fregato adesso guarda il peso peso johnny guarda peso 226 su 255 è già molto meglio no? si è un po' meglio eh adesso puoi i danni da non hai più danni da caduta guarda puoi fare i salti un po' abbondanti adesso qua ci sono ma cazzo ma Nicola se ti sei fregato ancora le munizioni erano per lui cosa? erano per lui erano per lui i due pacchi di munizioni fatti furbo calvoerino mannaggia vediamo se riesco a darmi un po' no 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 infatti io sono in abbondanza che armi c'hai? anche io abitudine il torso la gamba destra le devo mollare oppure le tengo se vuoi mettile qua Nicola non c'è mica la sua cassa? no va bene dov'è la cassa? non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è